CONGELA! C'ho un galippo! Benvenuti a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale Oggi siamo sempre sulla demo di FIFA 16 Però con una variante Ogni quindicesimo minuto, trentesimo, quaranticinquesimo, eccetera Vi trovo a mettere un pezzo di ghiaccio Nelle mutande, avete capito bene Giocheremo in modalità leggenda Altra cosa da aggiungere è che Praticamente se ogni volta che il computer Segnerà a me, mi trovo pure esorbire Il pezzo di ghiaccio del gol fatto da loro Andiamo a fare Real Madrid Barcellona Impostiamo la modalità leggenda Iniziamo Non voglio che il mio Paco sia Diventi un ghiacciolo Lo congelo e me lo mangio a Natale Faccio Mamma! Cucinami il capretto Mi cucina il capretto No! Ma no dai, già mi hanno segnato Pichiamo Uno per il gol E uno perché ormai siamo al quindicesimo minuto Quindi mi devo mettere Sono pure grossi Quindi Sembra che mi sto pisciando addosso Congela! Ronaldo mamma io sulla fascia Ronaldo e tiro No! Ma dai! Ma che mi faccio? Mi chiacciano le palle Mi sta uscendo l'acqua Sembra che sto squirtando C'è un galippo C'è un galippo Marcello 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 Palo Via via Finisce il primo tempo Quindi altro pezzo di ghiaccio Lo mettiamo piccolo stavolta Sto morendo Mentre i pinguini che mi camminano là sotto Il pezzo di ghiaccio No 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 Palo no Mamma mia Mamma mia Mi sta grazie Non ho fatto un'azione ragazzi In questa partita Perché sono C'ho le palle congelate Siamo arrivati al quindicesimo Il secondo tempo Quindi dobbiamo mettere Un altro pezzo di ghiaccio Piccolo ragazzi Non tanto grande Perché già ancora c'ho Quello che non si è sciolto E le mie palle tengono freddo Dove devi capire Non devi potermi a penale No vado a traversa Non ce la faccio più Sottocinquesimo ragazzi Mettiamolo Muoviti Muoviti Non posso stare così Che c'è ghiaccio Ma noi Vediamo questo Mettiamo un altro Mi potete mettere una bottiglia di champagne Per quanto ghiaccio c'è Mica si scioglie il ghiaccio Si sta congelando Ma un po' via che ragazzi È difficilissimo giocare con le palle ghiacciate Ve lo sto dicendo io Non ci provate Finisce ragazzi Novantesimo quindi Altro pezzo di ghiaccio Mamma mia Che lo metto Mamma mia che fina la partita Ce la faccio Arrivo Per oggi Per questa sfida è tutta ragazzi Vi invito A mettere mi piace A condividere il video E a scrivermi al mio canale Se non siete iscritti Bella Now I'm on the outside E a scrivermi al mio canale E a scrivermi al mio canale E a scrivermi al mio canale Grazie a tutti Grazie.